Musica Alvia la nuova legislatura per la giunta del comune di Poschiavo, che vede scendere in campo le diverse forze politiche e il nuovo podestà eletti dal popolo. All'ordine del giorno il giuramento promessa solenne per i membri principali e i supplenti della giunta comunale, del consiglio comunale, della commissione di gestione e del consiglio scolastico. Durante la seduta sono stati nominati anche i componenti delle diverse commissioni del comune di Poschiavo. Eletto anche il nuovo presidente di giunta, Graziano Crameri, PDC Valposchiavo. A lui abbiamo chiesto come si prospetta questo anno di legislatura. Può essere un anno interessante, anche le trattande che abbiamo previste. Un tema sicuramente sarà la pianificazione, un altro tema i rifiuti. Creeranno sicuramente delle discussioni, ma cercheremo di trattarle nel dovuto modo. Sulla scrivania del nuovo podestà ancora è sospeso tuttora aperti diversi dossier, che ormai da anni attendono una risposta e che figurano nella lista delle pendenze del comune di Poschiavo. Di sicuro in cima alla lista c'è la pianificazione sia comunale che regionale. La giunta comunale nel frattempo si prepara e scalda i motori per il nuovo mandato. Il podestà lancia un appello all'insegna del compromesso al di là di ogni partitismo. Vorrei avere un clima collaborativo, unire le forze, lavorare insieme e lascerei al momento da parte i partiti. È importantissimo che i vari opinioni e i vari interessi vengano rappresentati. Poi però bisogna trovare un compromesso, bisogna trovare l'alternativa comune. Nessun grande stravolgimento invece per quanto riguarda il Consiglio Comunale, che vede l'arrivo del neoletto consigliere Carlo Crameri, a cui è stato assegnato il posto vacante alla guida del Dipartimento Traffico Ambiente e Infrastruttura. Sono convinto di fare un'esperienza nuova, sono convinto che l'esperienza della giunta sicuramente è valida. Ritengo di conoscere diverse cose di questo dipartimento. In determinati settori ho avuto l'occasione di avere un'esperienza pluriannale. In altri invece sarà mio dovere cercare di informarmi e cercare di imparare il più presto possibile per portare avanti tutto il discorso relativo alla conoscenza dei dossier comunali. Per concludere, al termine della seduta di giunta, Gustavo Lardi ha presentato la figura polietrica di Tommaso Lardelli, ex podestà, maestro e architetto, facendo riferimento al volume del titolo La mia biografia con un po' di storia di Poschiavo nel secolo XIX. Ho buttato fino al volume del titolo La mia biografia con un po' di storia di Tommaso Lardi